Buonasera e ben ritrovati a Vite da Trita. Parliamo quest'oggi di Biathlon e do il piacere di ospitare un ex azzurro, attuale allenatore dello Sciclub, Livigno Sezione Biathlon, Cristian Cusini. Cristian, buonasera. Ciao a tutti. Un onore averti. Incominciamo dalla tua vita ad atleta, poi passiamo ovviamente a quella attuale. Una tua carriera da biatleta incominciata sin da quando eri piccolino, presumo? Sì, ho cominciato da subito a sciare. Mi hanno messo a due anni e mezzo sugli sci. C'era la neve, quindi quello si poteva fare. Ho sempre vissuto la neve in tutte le sue forme, da subito con gli sci sciando, ma anche il ghiaccio e tutto quello che si poteva fare a Livigno. Era un pochino, era già diverso da quello che vediamo ora. Sembra, sono passati pochi anni fondamentalmente, ma la struttura sportiva era differente. E poi il primo amore è stato per la discesa, non per il fondo. Ok. Ho cominciato subito con quella e infatti i miei genitori mi avevano comprato tutta l'attrezzatura per fare discesa. Un giorno sono arrivato a casa e ho detto no, voglio andare a far fondo. Beh, che avevi già una certa età, perché mi ricordo ora, avendo intervistato altri tuoi ex colleghi, mi parlavano appunto di un Cristian Cosini presente tra le fila dello sci club alpino. Io credo di aver fatto i, forse, 3, 5, 6, 7 anni discesa. Dopodiché, insomma, un amico voleva andare a far fondo. Io ho seguito lui e quello è stato l'inizio di un percorso. Probabilmente a casa il papà aveva vocazione sci nordico, il maestro di sci era. Certo. Sotto sotto se la rideva che si è deciso di fare questo. E da lì è cominciato il percorso con sci di fondo. Quindi avevi 7, 8 anni? Sì, 6, 7 anni credo che. Ah, ok. Quindi sci di fondo, l'altra fila, sci club, allenamenti, gare, garette? Da lì di tutto non sono mai stato particolarmente bravo. Sempre stato più piccolo degli altri, sempre un po' a rincorrere. Ho avuto un anno di esploi, secondo anno cuccioli, quando ho vinto il trofeo Topolino. E dopodiché di nuovo, sempre inseguito un po' a tutti. Da qui tutta la parte del sci club Livigno, prima superiore, io volevo continuare a sciare. Non era possibile farlo con lo sci club Livigno, perché ancora le strutture non lo permettevano. E quindi ho deciso di trasferirmi a Bormio, andare con lo sci club Alta Valtellina. E da lì diciamo che è iniziata la seconda pagina. Certo. Quindi a Bormio eri in un collegio, eri in famiglia? Io ero in collegio a Madonna dei Monti. Perché una volta c'era ancora il collegio, proprio. Quello è stato un po' l'unico punto di riferimento che avevamo noi di Livigno per poter proseguire con questa attività. Avevamo sondato quelle che erano le possibilità tra Falcade e altri ski college. Però i tempi non erano esattamente in voga come ora e le situazioni erano più complesse, anche soltanto per gli spostamenti. Quindi Bormio è stato comunque l'inizio di quella che è stata l'attività sportiva agonistica, vera e propria. Facciamo un passo indietro, Cristiana. Hai detto che hai vinto il trofeo Topolino. Insomma, lo conosciamo. È un trofeo in ambito nazionale, anzi internazionale. Una vera festa per i piccoli fondisti, ma una gara anche sentita e molto importante. Ti ricordi ancora quella vittoria? Io ho bellissimi ricordi di quella gara. Uno è il fatto che, chiaro, non era la prima volta che partecipavamo a questa gara. Quindi l'agitazione era alta e tutti la sentivano in maniera particolare. Anche perché era l'unica gara che facevamo a livello, diciamo, internazionale. Sono partito nel binario della Repubblica cieca. Non c'era nessuno, quindi mi hanno sistemato là. Ho fatto il lancio. Il percorso, per chi l'ha vissuto in questi anni, era un pochino differente. Nel senso che alla fine del lancio si girava immediatamente a sinistra, prendendo poi quello che è il percorso che ora va nel poligono. E io mi ricordo questa scena in cui ho fatto la curva tagliando verso l'interno. Mi sono trovato davanti e ho detto, ma sei in testa. Insomma, l'emozione è stata grande, però da lì sono stato anche bravo a riuscire a concentrarmi e a riprendere il ritmo. E comunque la soddisfazione è stata quella di vincerlo con 30 secondi di vantaggio su Federico Clementi, che comunque tutti conosciamo. E ha avuto un percorso da fondista più che notevole. Una trofotopolino in tecnica classica, quindi eri più portata... Pattinaggio. Allora era in tecnica libera. Ah, ok. Quindi sei comunque più portato sullo skating, poi da lì ovviamente nel biathlon, quindi ti sei... Ah, è sempre difficile dire quello. Diciamo che la parte tecnica mi è sempre piaciuta molto. Ho sempre apprezzato sciare e sciare bene. Quindi che fosse una tecnica o l'altra, ho sempre cercato di farlo al meglio. Poi realmente con il biathlon, chiaramente, sono andato per vocazione su quello che era la tecnica di pattinaggio, ma ad oggi se posso scegliere la neve lo consente, preferisco la tecnica classica. Apprezziamo tutto, diciamo. Beh, certo. Quindi torniamo all'epoca delle scuole superiori. Bormio, che scuola hai frequentato, Cristian? Ho fatto il liceo scientifico. Era sportivo? No, proprio ancora prima non c'era il liceo sportivo, quindi il liceo scientifico vero e proprio. Quindi una bella mole di studio. Non è stata semplice. I ragazzi oggi stanno affrontando le stesse difficoltà, però so esattamente cosa significa. Quindi collegio e Bormio è una nuova realtà, perché comunque che si dica, tra Bormio e Livigno, soprattutto in quella fascia d'Italia, è un'altra realtà. Quindi ti allenavi, Sciclo e Baltavaltellina, vi allenavate dove? A Santa Caterina e Isolaccia? Tra Santa Caterina e Isolaccia. Quindi da subito, il primo anno, chiaro, ha subito abbastanza i cambiamenti e la differenza tra di vita, effettivamente, perché proprio a livello di organizzazione, di orari, di possibilità, era completamente diverso. E in collegio eravamo molto autosufficienti. Quindi dovevi fare in fretta ad adattarti al sistema e capire come integrarti. Io facevo ancora sci di fondo. Nell'Alta Valtellina, specialmente in quelle categorie, si cominciava a parlare di qualificazioni per andare alle gare. Perché il numero di partecipanti era alto, non si riusciva a portare tutti quanti. In questo caso era il trofeo Topolino. E io, nella fase di qualifica, ero malato. Quindi non ho potuto partecipare alla qualifica per il trofeo Topolino. Da lì, un giorno, Marco dei Cassi è arrivato e mi ha detto guarda, se vuoi, c'è la possibilità di andare a fare l'Alpe Adria. Non sapevo nemmeno cosa fosse, ma mi ha detto guarda, è una gara di biathlon che si farà là. Quando ho sentito parlare di biathlon mi si sono illuminati gli occhi. Ho detto, ma posso sparare? Sì, sì. E da lì, insomma, è partita la prima esperienza. E Christian, a Bormia c'era già la realtà del biathlon? Oppure è partita... Era già partita la prima squadra. Quindi la prima squadra si intende Christian De Lorenzi, Iuri Pradanini, Daniele Pedranzini. Quelli che sono stati i pionieri. Da lì Nicola Pozzi e Stefano Bedogné. Ok. Io ero nella seconda tranche. Ok. Partito con l'aria compressa e quell'anno ho fatto soltanto quella gara. Bello, entusiasta, era tutto nuovo e quello mi piaceva molto. Alla fine dell'anno, del secondo anno a Lievi, io non ero nemmeno nel comitato. Perché l'anno, diciamo, l'annata 84 era particolarmente forte. Quindi io ero una seconda linea anche di quello. Ok. E ho superato quella fase lì e ho detto, insomma, cosa si può fare? E l'attuale Biroldo che tutti conosciamo, Roberto Vitalini, mi ha detto, ma perché non provi a fare biathlon? Ha detto, sì, come si fa? Quindi da lì abbiamo cominciato un pochino a organizzare le cose e le strutture erano estremamente diverse da oggi. Cioè i ragazzi che oggi cominciano fanno un percorso che comincia a maggio per quanto riguarda l'allenamento e da subito, quantomeno da luglio, cominciamo a dargli le basi per quello che è il tiro e creiamo una scaletta. Ai tempi si sparava quando si poteva. Quindi facevamo il tutto in un garage perché ancora parlavamo di aria compressa ed era molto più fatto in casa. Era una cosa molto più semplice in quel senso. Soltanto che lui non è riuscito poi, a causa di forza maggiore, con i tanti impegni del piccolo calibro, quindi del 22, a seguire anche il circuito di aria compressa. Io ho fatto soltanto una gara di aria compressa e poi mi ha detto, ascolta, troviamo un fucile e vieni a sparare col 22. E la prima volta che ho sparato col 22 è stata ad una gara. Ah, ok, quindi pronti via. Diciamo che da qui si può capire anche, giustificare quantomeno le non doti al tiro. Sono sempre stato più portato per la parte, diciamo, da spingitore che non da sul tiro. E l'anno successivo invece, a quel punto, ho detto, allora partiamo decisi con quello che è il bietro. Noi abbiamo comprato, i genitori miei hanno comprato il fucile e da lì sono partito con questo percorso. Non eri maggiorenne, quindi chi rispondeva di questa arma? L'arma era intestata al papà, poi c'è tutta una trafila di carte per poi intestarla all'allenatore nel momento in cui si va a far le gare. Non è semplice, ma oggi lo facciamo noi per gli altri, sapendo che ai nostri tempi qualcuno l'ha fatto per noi. Certo, sì. Ci sono anche delle belle responsabilità. Decisamente sì. Quando si cresce si capisce e si apprezza. L'atleta stesso deve comunque essere conscio che l'arma non sei tu che ne risponde, ma penso un'altra persona. Quindi bisogna avere anche molta cura e molta attenzione. Dopodiché è cominciata la tua trafila nelle squadre, nella squadra B. Sì, l'anno clou è stato proprio forse quello della terza superiore. Seconda terza superiore, quindi nel 2000. Io quell'estate lavoravo con mio papà nel consorzio agrario per fare il rinveridimento pista qui nella parte del Mottolino. E quindi calcolate la possibilità di allenarsi effettivamente era molto ridotta. Quello che dico come sono cambiate le cose. Io alla fine in quell'estate avevo sparato la bellezza di tre volte. Sembra di parlare di 50 anni fa, ma io il pomeriggio, la mattina lavoravo, il pomeriggio prendevo la mia Vespa, andavo fino a Isolaccia, a Isolaccia prendevamo il furgone e l'unico poligono era lo Stelvio. Quindi in tutta l'estate io ho sparato tre volte. Quindi stiamo parlando del 2000, 2001, 2002, 2000. E da lì la prima stagione, la fortuna è che lì è stato il momento in cui ho fatto il salto a livello agonistico sugli sci, cioè chi mi era davanti fino a due anni e sembravano intoccabili, e da lì invece cominciavano a sembrare altri esseri umani e insomma ho fatto un bel salto di qualità. La carenza sempre, presumo, sul tiro. Sì, decisamente. Però quello è stato l'anno clou dove mi sono qualificato alle mini olimpiadi, quindi la prima esperienza a livello internazionale, siamo andati a Vokat in Finlandia e quello è stato il primo passo all'interno di una vera e propria carriera sportiva. Culminata poi? Da lì ho fatto sei anni nella squadra nazionale, tre anni in squadra junior e tre anni in squadra B e sette anni nel centro sportivo esercito, che mi hanno dato comunque la possibilità di fare tantissime gare a livello internazionale, da Coppa Europa ai mondiali junior, campionati europei senior e via dicendo. Quali di queste gare importanti ti è più rimasta impressa, Cristian? Credo che le emozioni più grandi siano comunque dettate da quella che è la soddisfazione di un risultato. Il risultato più importante che posso ricordare è un terzo posto in Coppa Europa dove il livello era estremamente alto, calcolando che secondo posto c'era Simon Furcad, fratello di Martin, che comunque sta ancora correndo e sempre ai vertici della Coppa del Mondo e dietro di me ho battuto allo sprint Jévenson, sempre francese, che ha vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Vancouver. Quindi c'erano dei buoni paragoni. Il passaggio dovuto avrebbe dovuto essere la squadra nazionale e dei circuiti di Coppa del Mondo, ma così non è stato. Infatti questo è stato un po' il punto di rottura con quello che è stato il mondo dello sport, nel senso che nell'ultimo anno in cui ho fatto l'atleta mi era stato chiesto di fare la preparazione estiva con il centro sportivo esercito, sempre per un discorso legato ai numeri, che per me è comunque una cosa positiva, gli stimoli, ma che comunque sarà stato valutato e inserito all'interno dei test come quelli della squadra nazionale. Questo non è stato, quindi è implicato di non partecipare alla prima gara di Coppa del Mondo a Contiolatti, nonostante i risultati dell'estate e dei vari test. Una serie di intoppi, comunque si parla di atleti professionisti, quindi poi non sempre le cose sono estremamente lineari e sempre si muovono sulle onde di quello che ci aspettiamo e pensiamo e a quel punto sono arrivato a dire, forse questa non è la mia vita, ci sono altre possibilità e altre volontà. In che anno hai appeso a livello agonistico di Sciacchioda? 2008. Con rammarico? Sì, il mio sogno era quello di partecipare ai giochi olimpici, quello era l'obiettivo grande, ma sapendo di partire fuori dalla squadra nazionale con queste inclinature tra i vari rapporti sarebbe stato molto complicato. A quel punto mi si era prospettata un'altra possibilità che era quella di partecipare al corso di formazione per diventare maestro di sci alpino, quello di sci di fondo era già stato fatto e in caserma molto schiettamente parlando con il tenente colonnello Marco Mosso mi era stato detto guarda se vuoi fare le gare questo percorso non lo puoi fare e di comune accordo ho detto beh allora scelgo di passare da questa parte e da lì è iniziata una nuova carriera diciamo. Beh non è da tutti comunque avere il doppio patentino tesserino da maestro di sci di fondo ed anche sci alpino, non credo sia tentante in Italia Cristiano? No, con il percorso da 90 ai 90 giorni, quindi l'ultimo, credo che al momento ci siano due o tre persone in Italia, però questo è soltanto, speriamo di essere i primi e che tanti invece cerchino di seguire queste orme e di vedere che comunque lo sci si basa tutto e sugli stessi principi, quindi diciamo che le assi lunghe o larghe, strette che siano sono maneggevoli. Tra queste assi, come le hai chiamate tu, simpaticamente c'è anche quella col tallone libero, il telemark, una tua grande passione. Sì, io da anche lì sono arrivato forse dopo i primi, nel senso che le origini del telemark Alivigno bisogna per forza ricercarle in quella che è stata la schieda. Nel gruppo Icaro, che tutti ricordiamo con tanto affetto, io sono arrivato un po' successivamente, però diciamo che è stata una grande famiglia e mi sono sempre trovato a casa nel mondo del telemark. A caso poi terminata la mia attività agonistica come biatleta, ho fatto anche delle gare nel mondo del telemark, alcune di Freeride, altre invece in Coppa del Mondo, però sì è sempre stato un grande amore. Se vado a sciare per i fatti miei, vado sempre in telemark. Non scialpino, ma bensì in telemark. No, diciamo che ecco, quello è sempre difficile, darmi una definizione come sciatore. Faccio scialpino per lavoro, faccio fondo da sempre, se posso scegliere cosa faccio, faccio telemark. Però il biatron è stata una vocazione che ti ha sempre richiamato, tanto che sei diventato allenatore e segui tuttora i ragazzini dello sci club, ma non solo. Sì, io mi divido a livello della nostra società, quindi della sezione fondo e biatron, un po' come coordinatore generale del tutto. Seguo la preparazione estiva delle categorie, diciamo dagli under 16, quindi dagli allievi, fino a categoria junior, seguendo sia il tiro che la parte sugli sci, poi invece d'inverno fortunatamente riesco a relegarmi solo su una categoria e coordinare tutti gli altri dall'esterno. Com'è così in breve la realtà latelinese del biatron, Cristian? Credo che stia facendo una serie di passaggi negli ultimi anni, nel senso che Biroldo aveva buttato un sasso grande che ha creato un eco molto forte nel comunque avere prima di tutto degli impianti che prima non esistevano, quindi dalla pista di Schirole e poligono delle Motte fino a un poligono ufficiale come quello di Val di Dentro, alla realtà che comunque abbiamo a Livigno e che permette di proseguire questa attività, al momento quello che serve realmente sono tecnici, tecnici formati che aiutino i ragazzi a crescere e a migliorare. Le strutture da sole non servono, avere tanti ragazzi senza le strutture non dà sbocchi, questo deve essere il percorso che potremo seguire per il futuro. Il fatto che i nostri ragazzini incominciano a sparare in tarda età, vuol dire 14-15 anni quando hanno prima avuto un passaggio nello sci di fondo e poi magari orientati sul biatron, non è un po' una gap per loro? Difficile da dire, nel senso che siamo forse l'unica società in Italia che riesce a far convivere realmente il biatron e sci di fondo. Nasciamo per vocazione come sci club per quanto riguarda la sezione fondo, il biatron si è unita successivamente. Il problema più grosso al momento è quello di creare dei percorsi che siano paralleli e che non vincolino nessuno. Comunque c'è sempre un gap numerico, una difficoltà grossa anche a livello di materiali, comunque il fatto che il fucile anche per un'area compressa lo si può utilizzare per un numero ridotto di persone e non è sempre facile accontentare tutti. Quindi dobbiamo essere bravi a utilizzare le risorse che abbiamo per invogliare tutti e ad avere, quantomeno a provare e seguire percorsi diversi. Poi se le qualità ci sono sono sicuro che anche negli anni futuri troveremo grandi tiratori in altro modo, gli esempi sono tanti. Comunque De Lorenzi aveva cominciato anche lui più avanti, a Livigno vediamo Thomas che comunque è un bravo tiratore, aver cominciato più tardi. e Paolo Rodigari che comunque è uno che è forse tra le medie migliori in Italia e ha cominciato anche lui comunque a 15 anni a sparare. A livello mondiale invece c'è stato un cambio generazionale secondo te tra il tuo Biatron anche se mi viene in mente che un Bjordalen c'era certamente già ai tuoi tempi così come c'è ancora adesso tra i migliori. Che differenza c'è tra... Bjordalen è stata una costante, in questi vent'anni ha comunque tracciato quello che è l'esperienza del Biatron mondiale. Diciamo che quello che si è potuto vedere fortemente è stato in Germania. Germania dallo squadrone di quando guardavo io le gare in Coppa del Mondo, quindi Frank Luke, Sven Fischer, Rico Gross e chi ricorda questi nomi, la staffetta che ha vinto una marea di medaglia per la Germania, ora diciamo che le squadre che approdano in Coppa del Mondo il livello è molto più omogeneo. Questo è il motivo per cui una gara di Biatron è tanto spettacolare. Al di là del fenomeno Martin Furcad che sta facendo successi in lungo e in largo, sono tantissimi possibili vincitori o comunque chi può salire sul podio e quindi diciamo che tutto il livello si è alzato decisamente sia sugli sci che sul tiro e quindi è ancora più difficile arrivare ai vertici. A livello di materiale mi riferisco alla carabina? C'è stata qualche evoluzione? L'evoluzione grossa è stata sui calcioli, cioè la parte in legno per intenderci del fucile. Prima le regole erano estremamente rigide riguardo a delle altezze e misure. La canna ha subito un cambiamento negli ultimi dieci anni per quanto riguarda il peso. C'è un peso minimo del fucile che è di 3,5 kg, ora tutti quanti arrivano più o meno al limite ma la modifica grossa è stata fatta appunto su quello che è la parte che si impugna e che permette una comodità e un comfort diversi da prima. Quanto pesava la tua carabina? Eravamo sui 4 kg, non c'era una differenza sostanziale ma è proprio come viene impugnata che è differente e permette forse anche una tempistica un pochino diversa ma quella deriva tanto dagli allenamenti e dall'idea che ad oggi il tiro deve occupare una serie a terra non più di 25 secondi e siamo sui 20 in piedi. Cristiana tu l'hai detto è uno sport davvero spettacolare, in Europa è lo sport più seguito a livello invernale di tutte le discipline, in Italia si anterselva ma poi comunque il biathlon rientra nel calderone degli sport con un seguito medio, come mai questa differenza? Ma diciamo che in Italia abbiamo dei pro e dei contro a livello sportivo che sono comunque eclatanti, lo sci è stato uno sport sempre riconosciuto a livello nazionale perché abbiamo sempre avuto dei campioni che lo rappresentavano, immaginate cosa potrebbe essere il MotoGP oggi se non ci fosse stato Valentino Rossi, quindi forse quello che non siamo ancora stati in grado di fare, lo rotteavire forse sta cambiando un pochino le cose a livello mediatico, è quello di avere un campione che vinca e che faccia scoprire questo sport. Il problema grosso del biathlon in questo senso è che non esiste il livello amatoriale, c'è lo sport professionistico, punto. Quindi è uno sport che non raccoglie numeri? Non può raccogliere numeri per questo motivo, quindi come lo sci di fondo ha alle gare popolari, vediamo la sgambeda, nel biathlon sarebbe impensabile fare una cosa del genere. C'è qualche amatore che si approccia, è bello vederli poi alle gare, però effettivamente è una disciplina estremamente impegnativa in quel senso, quindi è sulla struttura delle società che bisogna andare ancora a lavorare per dare gente formata e invogliare i ragazzi a seguire un percorso che sia delineato veneto. Cosa ne pensi ormai alle eminenti olimpiadi del mese di febbraio? Come si comporteranno gli azzurri? Speriamo benissimo, diciamo che comunque dipendiamo tutti, anche a livello di club, da quelli che sono i risultati di alto livello e i bambini vivono di motivazioni anche in questo senso, quindi più medaglie ci saranno là e più avremo sorrisi in pista. E più seguito ci sarà, perché le medaglie olimpiche creano sempre un seguito, speriamo. In tema di Biatron internazionale, tu e l'altro allenatore della sci-club Luca Bormolini siete fautori di un progetto davvero fantastico, ce lo spieghi? Sì, Luca diciamo che da anni collabora con la squadra australiana e da lì poi essendo diventato lui anche allenatore ufficiale dell'IBU, quindi International Biatron Union, che è la FIS del Biatron, è stato costruito questo progetto che racchiude non più soltanto la parte oceanica, quindi australiana, ma ha compreso anche una fetta di quella che è la federazione brasiliana. Quindi da lì questo nuovo progetto del portare tanti ragazzi brasiliani ed australiani alle Vigno che lavoreranno con noi in tempi diversi rispetto allo sci-club, ma non sempre, perché la voglia è quella di comunque farli confrontare e vivere insieme determinate esperienze, perché questa anche per noi deve essere una crescita a livello personale. E i ragazzi è bello quando ti dicono che non ho mai parlato tanto inglese come oggi, quindi questo deve essere il valore aggiunto per noi, un confronto con persone che vengono dall'altra parte del mondo qui per allenarsi e con la voglia di farlo. Non è relativo al livello che hanno e i risultati che ottengono, ma la motivazione che li muove è lo spirito con cui affrontano queste cose. Un progetto già rodato con i ragazzi australiani, già da qualche anno vengono a Livigno e addirittura durante il mese estivo sui nostri allenatori, i nostri ragazzi che spesso si recano da loro in Australia. Uno scambio fantastico. Sì, Luca è il regista di questa messa in scena e è lui che coordina tutto quanto e che organizza i contatti. Io cerco di aiutarlo per quello che è la parte che mi compete, quello che posso fare con la volontà appunto che questa cosa sia un'esperienza grande per loro ma anche per noi. E quindi, appunto, come dicevi tu, i ragazzi nostri che sono scesi e sono andati in Australia per fare questa esperienza e hanno vissuto quello che era l'uscita all'altra parte del mondo sono tornati entusiasti. Quest'anno gli ultimi due sono stati Emil Bormetti e Martina Viviani che subito al termine della loro attività agonistica sono andati in Australia per scoprire questo nuovo mondo, finire il loro percorso di formazione a livello professionale qui in Italia, quindi con il corso maestro di sci e poi sarà anche il corso allenatore e poi costruire questa grande famiglia dello sci che speriamo diventi sempre più larga. È tutto, io ti ringrazio di cuore e in bocca al lupo per la stagione tua e i tuoi ragazzi. Grazie mille. Soprattutto per loro, grazie. È tutto per questa sera, grazie per la cortesa attenzione e vi rimando a mercoledì prossimo. Buona serata. Grazie a tutti.